La Lega è una, il singolare, la Lega è un grande progetto, ha tante persone che ci credono, che si sono appassionate, ci sono discussioni perché è normale che sia così quando un movimento è vivo e vivace, però c'è una linea politica che è stata decisa dal Congresso. Il segretario del Carroccio Roberto Maroni, pur confermando che non ci saranno sconti per chi ex deputati, senatori e dirigenti con le loro esagerazioni negli ultimi tempi hanno arrecato un danno al partito, continua a gettare acqua sul fuoco delle polemiche che negli ultimi tempi stanno divampando nel movimento. L'ultima ieri sera, quella secondo cui Bossi avrebbe presentato nello studio di un notaio gli atti per la Costituzione di un nuovo soggetto politico. Il vecchio leader ha smentito subito la notizia, così come ha fatto Maroni, ma gli amici del Senatur raccontano che la decisione era nell'aria. Nonostante l'invito all'unità che arriva da più parti, la tensione nel Carroccio è alta soprattutto per le espulsioni annunciate in Lombardia che riguarderebbero anche l'ex capogruppo alla Camera, Marco Reguzzoni. Tensione ancora più alta in Veneto, dove questa mattina si è tenuto il Consiglio nazionale della Liga Veneta. Qui il partito è spaccato in due, da una parte i sostenitori del segretario Tosi e dall'altra quelli dell'ex ministro e uomo forte del Carroccio Zajac, dopo il forte calo di consensi conseguito alle ultime elezioni scaricano gli uni sugli altri la responsabilità. Al suo arrivo al Consiglio, a cui partecipa senza diritto di voto, il governatore Veneto è stato accolto da applausi, mentre un centinaio per protestare contro l'annuncio delle 35 espulsioni hanno accolto freddamente e imbavagliati il segretario regionale Flavio Tosi. Non vedo, non sento, non parlo. Quando poi al termine del Consiglio il segretario ha proposto l'espulsione di 35 militanti è scoppiato il finimondo. Tra Urla e Spintoni, un gruppetto di militanti al grido fuori i fascisti dalla Liga, sono entrati nella sede del Consiglio per contestare Tosi. Sono volati sbelle, Spintoni e un pugno ha colpito un militante che è stato costretto a farsi medicare. A me spiace che non si trovi una soluzione per l'unità e penso che il tema dei provventi disciplinari non risolva questo problema, penso sia evidente.